Ogni tanto anche noi ragazzi dobbiamo iniziare il nuovo episodio della Pixelmon sfidando un Megaboss leggendario Quindi ragazzi benvenuti e bentornati con questo nuovo episodio appunto della Pixelmon che tanto vi sta piacendo Quindi forza che vi piace perchè questo Charlie è stato appena scioltato Mewile Mega Vediamo cosa ci può droppare ragazzi interessante, qua intanto stiamo livellando Carmella Lara, poi abbiamo anche un Fairy Memory che non so cosa mi serva e anche dell'Iron Allora ragazzi vi dico che sono rimasto praticamente FK con il Megaboss per un bel po' di tempo E mi ha caricato quindi altri boss leggendari in tutto ciò Infatti davanti ai miei occhi ragazzi guardate che abbiamo Abbiamo questo bellissimo giganteschissimo Kamerut Megaboss Che andiamo a sfidare con Articuno alla 70 Io ci voglio di cuore ma non ho controllato che attacchi avesse questo bellissimo Articuno E non ha neanche un attacco tipo ghiaccio Ottimo Articuno, partiamo così per bene in questo modo Qua ho dei attacchi, non ho dei attacchi tipo terra Dai ragazzi ma da nazione, ma dove sono i miei attacchi tipo terra? Ce l'ho solo sul Groudon Allora facciamo così, ci potrebbe stare un episodio dove magari si stiamo Le mosse di tutti quanti i miei Pokémon barra Pokémon leggendari Perché in realtà sto notando che i Pokémon che ho io Sono molto forti alcuni Hanno delle mosse che non hanno proprio completamente senso di esistere Comunque mi ha dato una Star Suite Che è la prima volta che vedo Shellmet se non sparisci dalla faccia dell'universo Faccio sparire io in questo modo E credo che tu sia appena sparito Comunque dicevo dobbiamo sistemare assolutamente tutte quante le mosse dei nostri vari Pokémon Perché qua siamo messi veramente molto ma molto male per in alcuni sensi Comunque già che ci siamo Dato che mi è apparito l'insurrezione l'ultima volta che non l'ho fatti vedere Devo far vedere tutti quanti praticamente i Pokémon Sia nella versione normale che nella loro versione Galarian Quindi andiamo a far vedere tutti i tre lucii leggendari nelle loro varie versioni Ragazzi, sì, potremmo fare anche un episodio solamente in questo modo Cioè solo con loro sei Però per farlo dobbiamo superare i 5.000 mi piace Se superiamo i 5.000 mi piace Facciamo un episodio con questi sei Pokémon leggendari Che alla fine sono i tre Allora Zapdos può uscire? Ok, sono i tre uccelli leggendari ma nella loro versione normale E nella loro versione Galarian Quindi è lo Zapdos ogni volta che crea problemi comunque Se notate Ah l'articuno ragazzi non sta bene Non l'ho curato Comunque guardate che spettacolo qui ragazzi Sono tutti quanti i nostri uccelli leggendari Ma nelle loro versioni più belle Sia in quella Galarian che anche questa qua normale Anche secondo me ragazzi come il Moltres di Galarian Ce n'è proprio poca di roba Perché sono tutti quanti belli ma lui è proprio il più bello di tutti Ritirata questa squadra di Pokémon leggendari abbastanza ignorante Nell'episodio di oggi dobbiamo andare alla cattura Di un Pokémon leggendario Che tanti di voi stavano aspettando da tanto tempo Meno male che non abbiamo utilizzato la Master Ball nello scorso episodio Perché ragazzi, sì È un Pokémon leggendario che sicuramente avrete detto dal titolo Che non è per niente facile andare a catturare Quindi noi dobbiamo prepararci per bene Prendere tutte quante le Pokéball Tutte quante queste cose E poi dopo andare in battaglia Quindi, prima cosa Andiamo subito a prendere le nostre ghicocche nere E gialle E le mettiamo tutte quante a cuocere Perché vi ricordo che dopo l'ultimo episodio Abbiamo preso lo Zapdos Non so neanche io come Non lo so ragazzi Che boh L'ho preso come una Pokéball Io sento ancora crederci Ma noi in questo esatto momento Dovevamo fare altre Ultra Ball Perché siamo messi malissimo Non male Malissimo Non abbiamo neanche più una E il prossimo leggendario Ok che voglio prenderlo tecnicamente Con la Master Ball Se tutto quanto va male Perché in realtà vorrei non utilizzarla Per un altro leggendario Però ragazzi Giratina è un leggendario Che assolutamente voglio E voglio assolutamente portarmi Anche nell'ultra dimensione Perché tanti vi metto Marco Portati dietro il Giratina Nell'ultra dimensione Lo porterei anche dietro ragazzi Ma non ce l'ho con me Squadra Quindi facciamo così Smontiamo questa ghicocca Piantiamo qua un pezzettino di legno Così riusciamo a seguire A prendere le altre Perché Ah e ne abbiamo già uno Stacchi 63 Ottimo Prendiamo tutto quanto il ferro Che abbiamo in giro Perché ne abbiamo usato Un bel po' in questo periodo Però qua già abbiamo questi Abbiamo 18 Ultra Ball Dentro la cesta Va bene Ottimo Interessante Questa qua è cotta Ce la prendiamo I pulsanti Ci riprendiamo Ci prendiamo anche questo ferro Quindi Già che ci siamo Per non saperne leggere Ne scrivere Altre plate di ferro Ne le prendiamo E le mettiamo direttamente qua A cuocere Così siamo belli che tranquilli Prendiamoci Queste qua gialle Che sono invece già cotte Due stack Credo che vadano più che bene Qua ce ne abbiamo altre Un dici nero Da poter cuocere Quindi mettiamo a cuocere Anche queste qua Un dici nere Poi ci facciamo magari Una squadra decente ragazzi Per andare a prendere Il giratina Che è tipo drago Ricordiamoci Essendo lui un tipo drago Comunque non dobbiamo Fare una squadra Che lo devasti Quindi comunque I nostri soliti Li mettiamo in squadra Questi quattro qui Ormai sappiamo che sono Un po' imprescindibili Per le nostre battaglie Soprattutto il Dark Ray Perché con Dark Void Potremmo comunque Addormentarlo Il nostro giratina Però stando attenti Perché Dark Ray Dark Void ragazzi Un attacco di tipo buio Che giratina Potrebbe soffrire Quindi lo facciamo Una sola volta Controlliamo quanto danno Prende E poi lasciamo stare Anche perché Ricordiamoci che ha l'82 Il mio Dark Ray Poi vediamo quali altri Leggendari possiamo mettere Sicuramente non un tipo buio Magari un Regigigas Che può contrastarlo bene Con Ice Punch Perché ha anche un attacco Un attacco tipo ghiaccio Che lui è tipo drago E potrebbe soffrirlo E poi vediamo magari Un altro Pokémon Leggendario a 70 Che da un Pokémon Non portiamo con noi in battaglia Sicuramente Eternatus Knock Al 100 Magari un Melmetal Che non è per niente male Però lui ha solo un attacco A Thunder Punch Vediamo se c'è qualcosa Che può imparare Per esempio Qua cosa possiamo darle Magari questo Fire Fang Andiamo su a curarlo E già che ci siamo qua Prendiamo le prime ghiacocche cotte Ci facciamo già Le prime plate di Ultra Ball Così le mettiamo subito a cuocere E non perdiamo tempo ragazzi Perché non abbiamo tempo da perdere L'altare del Giratina È lì che ci aspetta E noi dobbiamo assolutamente Andare a catturarlo Continuiamo su questo Melmetal Può imparare un attacco Tipo Fire Fang No non puoi impararlo Va bene È comunque interessante Imparare a vedere Quali attacchi puoi imparare E quali no Ma neanche Volt Switch E perché ha Thunder Punch Allora ragazzi Se poi non puoi imparare Il Volt Switch Allora vediamo se ha qualcosa Se ho magari un attacco Di tipo acciaio Da qualche parte Smart Strike Ci provo Ma neanche Smart Strike Vediamo Earthquake Magari un bel terremotino Ragazzi No non puoi imparare Ah no l'ha imparato L'ha imparato ragazzi Infatti adesso andiamo a vedere Mi ha mangiato il disco Perché ha Ok Ragazzi Earthquake sul Melmetal È veramente un'ottima mossa Quindi magari questi attacchi qua Puoi impararli Controlliamo Energy Ball Direi che è meglio di no Poi vediamo cosa puoi imparare Psycho Shot No Psy Shock Puoi impararlo Non puoi impararlo Va bene Interessante Vediamo se magari Un attacco di tipo veleno Non credo Abbiamo Ball Cup Thunder Thunder puoi impararlo Ok ha imparato anche Thunder Abbiamo già due mosse Però di tipo elettro Quindi sono già un po' troppe Direi basta Con il tipo elettro Vediamo se ha magari Un attacco di tipo Vediamo Waterfall Non credo Lo possa imparare Di ignoranza Però ci provo No non puoi impararlo Va bene dai Tre mosse Mi piacciono ragazzi Tre mosse che mi piacciono Intanto che qua le nostre cose Stanno cuocendo ragazzi Avremmo tecnicamente Quasi finito Intanto abbiamo finito Qua Sponato un nostro Bellissimo Lui non mi ricordo mai Come si chiama Come cavolo si chiamava ragazzi Che non mi ricordo Vediamo un attimino Vieni qua campione Tu sei un Tro è vero Ragazzi mi dimentico Ogni volta Alcuni nomi dei pokemon Comunque vi faccio vedere Una cosa che vi ho tenuto Segreto per un sacco di tempo Ultimamente ho preso Due pokemon leggendari Che non vi ho mostrato E guardate qua Sono nel box 29 E sono Mesprit E Hazelf Grazie a loro ragazzi Sono riuscito A ottenere E grazie anche ai rubini Sono riuscito a ottenere Un oggetto Veramente Molto importante Che ci servirà appunto Per attivare l'altare Del giratina Ed è la red chain Questa red chain L'abbiamo ottenuta Solamente grazie al fatto Che sono riuscito anche A portarli A un livello di felicità Super alto Al 255 Se non mi sbaglio Controlliamo al volo Hazelf Quanto sta di felicità 255 In pratica Nel momento in cui Lui arriva a 255 Mettiamolo nel box qua Perché in realtà È un pochino inutile Come pokemon leggendario Dicevo Portandolo a quel livello E unendolo a rubino Lui ti droppava Un oggetto Una specie di orb Uuu Una specie di orb Che era molto utile Per appunto Attivare il portale Allora fermi un attimo Però prima facciamo fuori Questo amphoros Che è mega leggendario E poi andiamo subito Al portale Per provare ad andare a catturare Il nostro bellissimo Giratina Però prima facciamo fuori Questo amphoros Non so se il flamethrower È il miglior attacco Da fare a questo amphoros Dopo magari utilizziamo Un attacco di tipo terra Magari l'earthquake Sul melmetal Però a questo punto Facciamo così Lui mi sciotterà il charizard Siamo lì però Proviamo a bruciarlo Almeno No non si è bruciato Eh va fa niente Fa niente Allora tiriamo fuori il melmetal Un attimino Andiamo di earthquake Non ci arriva Ce la fa Ce la fa Però l'ha tolto un po' di vita Dai Lui ci farà fuori Va bene Va bene Va bene In questo modo Chi abbiamo Dark ray Dark ray Proviamo di dark void Lo addormentiamo un attimino Al volo E prendiamo di dark pulse Dai dark pulse Così lo proviamo a shottare Oh ok Vediamo se si dà la sua mega pietra Ok E anche un'altra caramella rara Ottimo Prendiamoci tutto quanto Però abbiamo L'inventario pieno Quindi droppiamo via Tutto quanto Oh Ok Prendiamoci anche qua Perché non so Perché ho droppato l'orb Ho droppato qualcosa interessante No Va bene E quindi comunque ragazzi Abbiamo abbastanza oggetti Anzi abbiamo gli oggetti In realtà più utili Per andare a catturare Questa giratina Però in questo momento Andiamo a prenderci ovviamente Queste plate Liberare un po' l'inventario Perché a me si può Che non appurarsi Vanno bene Vanno bene Vanno bene Droppiamo via tutto quanto Il resto che per ora è inutile Queste chicocche pure Questo qua anche Ok Siamo pronti ragazzi Allora Premiamo qua il pulsante Che ci teleporterà Direttamente al tempio Oh Buongiorno Signor Shizor Totem Ed eccolo qua Il tempio L'altare che tutti Noi aspettavamo ragazzi Non mi ricordo Se qua in giro C'era anche un albero Delle master Ma in questo Mi sembra di sì Perché l'avevo appunto Lasciato apposta Per questo episodio Ma ora non mi ricordo bene Dove strada Ma non è una cosa importante Comunque Allora Se non mi sbaglio Innanzitutto devo prendere Questo chest qui Che ha due orb Ok Interessante ragazzi Ottimo Cioè ci sono fatte due orb In questo modo Io non l'ho aperta L'ho lasciata lì apposta Da prendere in video In compagnia vostra Ho detto Voglio fare la reaction Al volo Non mi aspettavo due orb Ok Poi cos'è che c'è d'altro Dragon Souls Steel Memory Ok va bene Allora facciamo così Allora Lasciamo tutto quanto qua dentro Comunque Allora Tecnicamente bisognerebbe Fare in questo S'ho spaventato un sacco Vabbè Allora Dobbiamo premere Tasto destro con la red chain Ok Ora l'abbiamo attivato In questo modo Dovremmo Dovremmo essere tutto quanto ok Allora Per attivarlo Dobbiamo inserire Uno tra questi qua Di orb Che è questo qui Il grisius orb Ne abbiamo Gli altri servono per il palchio Per il dialga Noi abbiamo il grisius orb Quindi Premiamo col tasso destro C'è l'animazione della battaglia E ragazzi Noi siamo pronti Giratina Sta per essere spawnato Allora Vediamo Se sta per arrivare Giratina Ok ragazzi Buongiorno Ecco qua La battaglia Che stavamo aspettando Sempre con l'orb Che avevamo prima Tecnicamente alla fine Della battaglia Dovrebbe ridropparcelo Perché In questo modo Ridroppandoci Noi possiamo sbloccare Anche la versione Del giratina Quell'altra La seconda versione Ok comunque L'abbiamo addormentato Ottimo Tanta roba L'abbiamo addormentato Andiamo di necrozma Di resto Punto Anche se è un livello 80 Va più che bene Sunsteel strike Lo portiamo a vita gialla Interessante E andiamo di poke Ultra ball Partiamo così di ultra ball Sicuramente ragazzi Non possiamo essere Tanto fortunati Quanto ieri Con lo zap Doss ovviamente Però Non vedo Dove cade La nostra amica Ultra ball Non vedo proprio nulla Vabbè Allora Facciamo così Night slash No perché lo distruggiamo Slash pure Che poche non abbiamo A livello 70 Melmetal Ok Allora Lui non è molto efficace Con noi Andrei di Thunder punch Con la speranza Di non shottarlo Ok Non lo stiamo shottando L'importante è magari Provare a paralizzarlo E a portarlo Tanto 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 A vita rossa È molto importante Sobretutto Non sbagliare gli attacchi Ok Ha ancora un po' Di vita rossa Secondo me Un po' così Non riusciamo a portare giù Ragazzi Guardate Quanta vita ha In questo momento Giratina Più fisso Quella barra Della vita rossa Più mi viene l'ansia Che da un momento all'altro Potrebbe Potrei soffiare addosso E farlo fuori Io però L'ho lanciato una ultra Bulli da nazione Non entra Giratina È una di quelle forme Leggendarie Che mi piace di più Un di quei pokemon Leggendari Che mi piace di più Proprio perché Ha questa forma Quanta molto strana Un po' Quanta Non dico ambigua Però è proprio Veramente strano Da guardare A questo punto Butto in campo Così un necrozma A cuore d'oro Vediamo cosa riusciamo A fare con questo necrozma Ragazzi State notando Che la ultra ball Cade a terra Da un'ora e mezza E non Gira neanche Allora Uno Due No Al secondo giro Va bene Lui è super efficace Con noi Però ricordiamo Che noi l'abbiamo Praticamente disintegrato A livello di vita Avrà tipo tre ps Quindi siamo anche molto attenti Non dobbiamo neanche Sfiorarlo con un dito Allora Altra ultra ball Vediamo cosa succede Uno Due No Secondo giro Sempre secondo giro Si ferma a dannazione Sto dannato qua Di un giratino Ti prego Entra dentro Questa dannatissima Ultra ball Uno 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 ragazzi Uno 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 Va bene Uno L'accetto L'accetto Anche se è uno Va bene Va bene Allora Riproviamo ancora Col dark ray Di ultra ball Siamo in waiting Da un bel po' Siamo in waiting Da un bel po' E' uscito l'ultimo giro Io ho paura Lasciare il dark ray In campo ragazzi Non lo so Io vado di charizard Lascio il charizard in campo Non li faccio nulla Non lo attacco Non lo sfioro Non li faccio veramente nulla Solo che essendo al 100 Mi sento proprio protetto Allora Vediamo la nostra ultra ball Se riusciamo a inquadrarla E' sotto i piedi di charizard Uh Ragazzi Che ansia Che panico La situazione Allora Uno No Niente Ah Dannazione Dai Giratina Entra per favore Non fare Intanto devi entrarci Due Al terzo giro Adesso siamo anche al quarto Dannazione Dai Forza Forza No Come uno solo Giratina Allora Qua ci sono delle persone Che ci stanno aspettando Uno Dannazione Entra dentro Non so che fare Non so se lanciare una master ball o meno All'ultimo giro Sto dannato Giratina Uscita All'ultimo giro Dai che ci riproviamo ragazzi Uno Per favore Dai Giratina Stanno già per finire i pokemon leggendari ragazzi Ci ha disintegrato comunque una squadra di pokemon tra l'80 e il 100 Continua a uscire Ci rimangono pochi leggendari raga Ci rimane il dark ray Con pochi sia vita E il graudone Poi se ci fa fuori tutti Despauna Avete capito un po' come funziona Io vado di dark ray in campo Però Cioè A sto punto Se poi mi rimane solo il graudo Mi tocca utilizzare forza la master ball Vai Allora Riproviamo ancora di ultra ball Dai ti prego ultra ball Stai inquadrando qua dal sotto Uno No Ragazzi Non vuole Mi ha pure fatto un critico Ma lui non è tanto efficace con noi Che ansia Che ansia Questa battaglia di leggendari Uno Due Tre È uscito al terzo È uscito al terzo ragazzi È uscito al terzo Che vi devo dire Queste sono le ultime ultra ball Che utilizzerò in questa battaglia Terzo giro Ragazzi C'è il graudon Che stai evolvendo in arco graudon Questa è la battaglia dei titani Utilizzerò L'ultima Le ultime due ultra ball Perché poi lui probabilmente Mi shotterà il graudon E a sto punto Vado direttamente così Ultra ball E poi vado di master ball Se non entra Uno Due Tre No l'ultimo Dai Giratina Ti prego Già non si capisce un tubo Ma eh No l'ultima ultra ball Neanche ha funzionato Ma guarda che rimane subito fuori Cadi dentro sta ultra ball No raga lui rimane fuori Lui rimane Lui da quando ha visto il graudon Si è arrabbiato Non ci ha più visto nulla E non vuole neanche Rimanere dentro la ultra ball Cioè state notando ragazzi Sta cosa assurda Gli sto lanciando la ultra ball Guardate Da quando è uscito il graudon Neanche rimane dentro la ultra ball No assurda Sta roba qua è assurda Siamo in waiting da un po' L'abbiamo preso? What? Antimateria Ciment fatto? Chi è che sta livellando? Graudon 85 Ma Si era buggato all'ultimo Allora raga È interessante Io se Dragon's Soul Squad Me le prendo Ok Quindi siamo riusciti a catturare Questa giratina All'ultimo comunque raga Perché guardate il graudon Con quanta vita c'è rimasto Dov'è che si vede la vita? Così Non si può più vedere la vita? No? Vabbè non si può più vedere Adesso torniamo a casa E controlliamo Più che altro non ci capisco molto Da quando abbiamo aggiornato la Pixelmon E quindi Non capisco molto bene Anzi Dovremmo andare probabilmente a sfidare Un Pokémon Che solitamente spawnano sempre qua in giro E' costata la bellezza di 33 Uuuuh Quasi metà stack ragazzi 30 Ultra Ball Per catturare un giratina Che a questo punto Io vado di qua Prendo Dov'è il nostro box? Dov'è il giratina? Eccolo qua Ci mettiamo direttamente in squadra Curiamo i nostri Pokémon E osserviamo Quanto è bello Il nostro giratina Mi è rimasto l'orb? Non mi è rimasto l'orb? Ma io pensavo rimanesse Vabbè lo possiamo trovare comunque In qualche altra sfida di qualche boss Perché questi tipi qua di orbe Vengono droppati direttamente dai boss Però vabbè fa niente Osserviamo questo giratina Guardiamo quanto è bello Si può volare? Si può volare! Eeeh Che bello raga Volare sul giratina Però voglio volare Sopra di lui Con un'altra versione Con tutta quanta fluttuante Ma che spettacolo! Bello Ragazzi Tanta 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 roba Vediamo che mosse ha il volo Osserviamolo per bene Allora Moves A Dragon Claw Shadow Claw Shadow Sneak E X Che sono tutte comunque Delle ottime mosse ragazzi E' uscito un bel giratina Ragazzi Spero che questo video qua Della pixabon vi sia piaciuto Vi invito a lasciare Un bel mi piace Un bel commento A iscrivervi al canale Se ancora non avete fatto A scegliere uno Dei due video qua davanti Vi ricordo che ogni giorno Escono due video al giorno 5.30 e 7.30 Non perdetevi ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Da Marco è tutto ragazzi Con questo nuovo giratina Ciao ciao Ciao